Oggi costruiremo insieme un joker che rimane in equilibrio e ruota. Ti servirà una vecchia ciabatta, degli adesivi, delle noci e altri materiali. Prima di tutto fissa il perno sulla faccia di gomma rotonda. Attacca dei bastoncini lunghi alla faccia come fossero braccia. Ora attacca delle noci di acciaio al termine delle braccia come pesetti. Ora puoi posizionare il perno sul tappo di una bottiglia. Dai una piccola spinta al tuo joker e guarda come dondola. Ora dagli una spinta circolare e guardalo danzare in cerchi. Grazie a tutti.